Musica FIVU Radicali, sempre al congresso di Radicali Italiani, siamo qui oggi con Luigi Mazzotta, il segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, notissimo nostro membro di giunta, se non sbaglio, di TV Radicale, economista, diciamo in qualche modo esperto di materia borsistica, finanziaria e quant'altro. Gli chiediamo subito ovviamente un parere su questa prima parte di congresso. Buonasera a tutti, io ho visto che ci sono stati parecchi interventi, anche di un certo spessore riguardo la crisi economica che è quella che ci riguarda tutti direttamente qui in Italia e non solo, ma anche l'Europa intera direi. E questa è un'occasione sicuramente, quella della TV Radicale, che ci consente di poter partecipare a un dialogo, un dialogo che noi vogliamo ci sia con persone che la pensano diversamente da noi e dai nostri modi, dalle nostre iniziative politiche che insomma sono tante. La cosa proprio importante è che chiediamo che le varie associazioni che sono dislocate sul territorio, i vari cittadini che sono disinformati totalmente da un sistema RISET che non consente di poter apprendere notizie, informazione e quindi avere anche una visione dell'Italia. La Web TV Radicale è uno strumento che viene messo a disposizione di tutti e questo è un grosso risultato di garanzia per le persone che vogliono esprimersi, vogliono avvicinarsi al mondo della politica e che possono creare dibattito e interloquire tutti insieme per cercare di migliorare questo nostro mondo dell'informazione soprattutto ed in generale di tutti questi problemi che siamo davvero subendo e che possano appunto metterci in condizione di vincere ed uscire da questa crisi politica, sociale, economica e finanziaria. Luigi, vediamo un pochino di fare un po' un totocongresso, secondo te il culmine è l'elezione degli organi elettivi, tesoreria, presidenza e segreteria, ci saranno delle riconferme, delle ricandidature o degli outsider? Tu che ne pensi? Hai sentito anche voci di corridoio, hai percepito qualcosa? Ma io in verità mi aspettavo una presenza di Marco Pannella stasera che non c'è stata, non so se domani lui sarà presente, posso immaginare di sì e dare anche il suo contributo a questo nostro congresso. Certo, non so se probabilmente ci siano delle nuove candidature che possano rappresentare un qualcosa anche di nuovo all'interno del nostro movimento. Il nostro segretario e il nostro tesoriere non hanno lavorato male, ma diciamo che noi anche nel nostro interno stiamo vedendo che ci sono delle problematiche riguardo anche un po' la direzione del partito, per cui io sono sicuramente aperto a qualsiasi tipo di alternativa. La politica radicale logicamente non è fatta di un solo nome e quindi che vengano sicuramente buone proposte sia da parte del segretario e sia da parte di colui che voglia rappresentare la nuova segreteria. Ringraziamo Luigi Mazzotta e gli auguriamo buon congresso. Grazie a tutti.